Avete mai pensato come sarebbe bello poter avere la stessa qualità di immagine che siamo in grado di produrre con una fotocamera professionale direttamente sul nostro smartphone? Sembra un sogno che sia vera, direte voi. Ebbene, oggi sono qui a fare un contenuto per mostrarvi come possiamo trasformare la nostra fotocamera professionale in uno smartphone. Avete capito bene? E vi consiglio di seguire questo video fino alla fine, perché alla fine del video vi farò anche vedere come si fa a mettere la fotocamera nella tasca dei pantaloni. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia ormai da diversi anni e come detto oggi sono qui a farvi un contenuto per mostrarvi come trasformare una fotocamera professionale in uno smartphone. Ovviamente non in senso letterale, però siccome è un contenuto che molti di voi mi hanno chiesto, andrò a farvi vedere come è possibile impostare la fotocamera per renderla molto molto semplice da usare. Quindi avremo sì in mano una fotocamera professionale, ma questa si comporterà grosso modo come uno smartphone, consentendoci quindi di scattare senza dover pensare assolutamente a niente. Ovviamente mi vergogno tantissimo del video che sto facendo, perché è una cosa che io mai avrei pensato di fare, io sono tutto il contrario di questo, però è un video che diversi utenti mi hanno fatto capire che può avere un richiamo molto forte. Perché molti utenti, anche molti miei iscritti magari che seguono i miei contenuti, non hanno voglia di imparare, preferiscono lo smartphone. Quindi io spero con questo video di riuscire a tirare dentro qualche utilizzatore di smartphone e di fargli piacere anche la fotocamera. Così magari se più utenti si appassionano a un mezzo fotografico evoluto, ora sia che questo tipo di contenuto vi interessi oppure no, vi garantisco che normalmente faccio dei video dove spingo un pochettino di più verso la qualità e quindi verso la manualità della fotocamera. Per cui se il mondo della fotografia vi interessa, io vi invito a iscrivervi cliccando il bottone qui sotto e se attivate anche la campanella siete sicuri di non perdervi le mie risposte in formato video breve ai commenti che potreste lasciare sotto questo video dove vi invito a farmi domande di qualsiasi tipo. Molto bene, ma andiamo a cominciare. La mia bellissima fotocamera è pronta a essere maltrattata. Molto bene, ma eccoci qui in compagnia della nostra fotocamera. Ora ovviamente la prima cosa che vogliamo fare se non vogliamo occuparci assolutamente di niente è attivare l'autofocus e si fa con questo piccolo interruttore sul nostro obiettivo e attivare lo stabilizzatore e si fa con quest'altro interruttore. In questo modo la messa a fuoco sarà precisa e automatica e lo stabilizzatore ci aiuterà ad avere scatti nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione o quando abbiamo sbagliato a impostare la nostra velocità di scatto. Ma questa cosa non succederà perché adesso andremo a impostare la macchina in maniera tale da non dovercene preoccupare. La prima cosa che andiamo a fare è andare a impostare la nostra qualità, per cui andiamo a impostare niente RAW e JPEG grande. In questo modo non avremo da fare un granché di post-produzione perché questa è un'immagine che possiamo già condividere così com'è. Qui abbiamo un'interessante opzione per gestire la ratio e quindi possiamo andare a dirgli che vogliamo per esempio un 1 a 1 se stiamo scattando per Instagram. Possiamo anche dirgli un 16 noni che poi può diventare un 9 sedicesimi se stiamo scattando in verticale. Quindi in questo momento io vi faccio vedere quest'opzione ma non la lascio impostata, la vado a rimettere su full. Per quanto riguarda il secondo menu andiamo a mettere on tutte queste opzioni perché ci aiutano a non doverci più preoccupare di niente. Quindi se ci sono problemi con la lente verranno risolte automaticamente. Impostazioni degli ISO. In questo caso andiamo a impostare i nostri ISO su automatico. Ovviamente esposizione della simulazione la teniamo abilitata perché questo ci permetterà di vedere. Vedete in questo caso questa è la simulazione della mia esposizione. Nel momento in cui io modifico i parametri vedete che l'esposizione cambia. Se io andassi a disabilitarla vedete che adesso tutto quello che io faccio non ha più effetto sulla mia esposizione. Questo può essere molto utile se stiamo scattando in studio con delle luci flash e quindi vogliamo la nostra esposizione ma senza avere un effetto sull'immagine. Però nel caso stiamo scattando utilizzando il display è assolutamente indispensabile avere questa opzione attiva così vediamo subito l'anteprima di quello che stiamo andando a fare. White balance su automatico in questa maniera non dobbiamo preoccuparci di impostarlo. Color space come potete vedere io l'ho impostato su Adobe RGB perché è un profilo colore più evoluto. Ma se noi vogliamo scattare per il web e non vogliamo preoccuparci di niente lo andiamo a impostare su sRGB. In questo modo avremo un'immagine già pronta per il web e con dei colori che non sballeranno quando la andiamo a postare sui vari social. Picture style attenzione questo è molto importante perché a seconda di quello che andiamo a impostare la nostra immagine verrà processata in camera in maniera diversa per cui io quello che vi consiglio è di fare un po' di prove. Standard vi darà un profilo abbastanza neutro poi abbiamo ritratto landscape fine detail abbiamo tutta una serie di profili che vi consiglio di sperimentare abbiamo un monochrome che vi farà il bianco e nero abbiamo fedele neutrale insomma io vi consiglio di provarli perché non ce n'è uno giusto e uno sbagliato. Abbiamo anche la possibilità di creare dei profili personalizzati per cui possiamo andare premendo info detail set vedete che possiamo andare a modificare questi parametri per avere un minimo di controllo su quello che stiamo facendo. In questo modo nel momento in cui andiamo a scattare un'immagine verrà processata in un certo modo e avremo il nostro JPEG già utilizzabile già pubblicabile però con un minimo di personalizzazione per lo meno sui colori e sul contrasto. Touch shutter speed questa è una cosa molto interessante normalmente io lo tengo disabilitato perché non mi interessa una funzione come questa come professionista però può diventare interessante perché questo ci permette di toccare e andare a scattare la fotografia semplicemente toccando il monitor proprio come faremo con uno smartphone. È un'opzione che possiamo comodamente disabilitare con quest'iconcina quindi una volta che l'abbiamo abilitata possiamo metterla on e off con il tocco di quest'icona. Può essere una cosa utile personalmente ovviamente non la uso ma vi segnalo che c'è perché se state guardando questo video probabilmente vi fa comodo. HDR mode è una cosa che vedremo in un video a parte per cui vi ricordo di iscrivervi al canale se non volete perdervelo. È una funzione molto molto interessante che serve a produrre delle fotografie ancora più ricche di dettagli. Anti flicker shoot questo possiamo attivarlo è semplicemente una misura di sicurezza. Silent live shoot qui non ha molta importanza che cosa andiamo a impostare a mio parere per cui la lasceremo così com'è. Ora per quanto riguarda l'autofocus io personalmente consiglio di utilizzare la modalità servo. In questo modo la fotocamera cercherà di seguire il soggetto che stiamo tracciando. Abbiamo impostato il rilevamento del volto e in questo modo la fotocamera andrà in autonomia a mettere a fuoco un volto se ci sono delle persone nei nostri scatti. Se non ci sono dei volti andrà a cercare di riconoscere la scena e metterà a fuoco in base a che cosa si trova più vicino. Abbiamo anche attivato l'eye detection quindi nel momento in cui c'è una persona andremo a mettere a fuoco sull'occhio cosa molto importante. Continuous AF questa è una cosa che andiamo ad abilitare. In questo modo la fotocamera proprio come un telefono continuerà a mettere a fuoco anche se noi non stiamo premendo lo shutter per mettere a fuoco o il bottone di back focus se abbiamo impostato quello ma ne dubito se stiamo guardando un video come questo. Quindi abilitando questa opzione la macchina fotografica cercherà continuamente di tenere la scena a fuoco quindi non avremo mai la visione fuori fuoco di quello che stiamo facendo proprio come se fosse un telefono cellulare. Qui abbiamo tutte impostazioni abbastanza importanti che però non ci servono nel momento in cui vogliamo lavorare facendo fare tutto al telefono. Anche in questo caso non ci interessa niente una cosa che potremmo fare è impostare eco mode perché ci farà risparmiare un po' di batteria e usando la camera in questo modo ne avremo bisogno. Touch control potremo impostarlo su sensitive così ogni minimo tocco andrà a scattare la nostra fotografia e non rischiamo di perderci dei bei momenti. Bip per quanto mi riguarda io lo tengo disabilitato però possiamo abilitarlo in maniera tale che quando andiamo a mettere a fuoco e scattare ci sia un bip che ci segnala che è stato fatto. Wireless communication settings questo è importante ma lo vedremo in un altro video perché questo serve a trasferire le foto sul nostro smartphone una volta che le abbiamo scattate. Ok e questo più o meno è tutto per quanto riguarda i menu a questo punto vi faccio vedere una cosa che forse è la più importante e ve la dico alla fine proprio per farvi rimanere e guardare tutto il video. Nel momento in cui utilizziamo la mia stessa fotocamera abbiamo il pulsante mode qui in cima se non avete la stessa fotocamera è probabile che abbiate una rotella una ghiera su quest'altro lato o insomma da qualche parte ci sarà una ghiera che vi permette di fare questa cosa ovvero di selezionare la modalità di esposizione come potete vedere io qui sono in manuale noi non vogliamo lavorare in manuale noi vogliamo lavorare in program P quindi quasi tutte le camere hanno una modalità P program o come la vogliamo chiamare. Questa è la modalità che consiglio di utilizzare perché fondamentalmente la macchina fa tutto da sola quindi come potete vedere la macchina mi calcola automaticamente le impostazioni che servono per avere la scena come lei suppone che sia esposta correttamente in questo caso devo dire che è esposta abbastanza bene quindi va anche molto bene così. Io adesso vado a spegnere questo perché se no ogni volta che lo tocco mi scatta una foto c'è un'altra modalità che vi segnalo che è questa qui che si chiama Scene Intelligent Auto. Questa è un'altra modalità automatica che va a cercare di riconoscere la scena e va a fare un'esposizione in base alla scena che stiamo esponendo quindi se stiamo facendo un utilizzo passatemi il termine smartphone di questa fotocamera probabilmente staremo riprendendo una scena standard da smartphone quindi un ritratto un paesaggio o un cane un gatto. E questa modalità può essere molto utile perché va automaticamente a riconoscere molte di queste scene e va a darci un'esposizione corretta per queste scene. Ultima cosa che vi segnalo con il pulsante Q posizionato qui oppure se lo volete usare da smartphone quindi touch ce l'avete anche qua possiamo andare a decidere la qualità della nostra immagine quindi possiamo ridurla ulteriormente se il JPEG in risoluzione massima è troppo grande possiamo andare invece che large possiamo andare a dirgli medium o addirittura small. Qui possiamo cambiare la nostra modalità di drive quindi se qui stiamo facendo un solo scatto così faremo una serie di scatti ad alta velocità e così faremo una serie di scatti a velocità un po' più sostenuta e qui abbiamo i nostri timer quindi se vogliamo farci l'autoscatto se è il timer 10 secondi o 2 secondi a seconda del caso possiamo decidere di usare anche una di queste funzioni. Le troviamo tutte con il pulsante Q ovviamente se vogliamo riguardare quello che abbiamo fatto questo bellissimo capolavoro andiamo a prendere il pulsante play e una volta che siamo in modalità review possiamo andare a premere il pulsante info per vedere le informazioni sul nostro scatto quindi vediamo che è un JPEG large vediamo come è stato scattato. Vediamo quanti altri scatti ci sono sulla batteria e possiamo andare a vedere l'istogramma e tutta una serie di dati e anche con che profilo è stata scattata con l'auto white balance quindi abbiamo anche il peso abbiamo la modalità di lettura andatevi a recuperare il video sui modi di lettura che ho già pubblicato sul canale che ha avuto molto successo vi insegna a utilizzare correttamente i modi di lettura per esporre una scena in automatico. È una cosa abbastanza essenziale se vogliamo usare la camera in questo modo ma non ve lo spiego qui perché sennò questo video diventa infinito. Bene amici come avete potuto vedere siamo passati attraverso una serie di menu abbiamo dato alla fotocamera una serie di impostazioni che servono fondamentalmente a disattivare tutte le cose che la fotocamera è in grado di offrirci quindi disattiviamo qualsiasi forma di impostazione manuale fondamentalmente stiamo dicendo alla fotocamera che deve fare tutto lei. Noi non vogliamo pensare a niente non vogliamo occuparci di niente non vogliamo fare post produzione non vogliamo fare niente la macchina si comporterà come se noi non fossimo capaci e produrrà delle immagini che possiamo condividere immediatamente senza modificarle assolutamente. Ora il vantaggio di trattare una fotocamera come questa è assolutamente evidente anche un utente inesperto è in grado di utilizzarla proprio come se fosse uno smartphone senza fare nessuna fatica aggiuntiva ed è in grado di portarsi a casa delle immagini che però non sono da smartphone sono da un lato molto più pesanti ma dall'altro lato molto più ricche molto più ricche di dati quindi possono anche essere post prodotte più pesantemente anche su Instagram. Ma butto lì perché so che la destinazione finale è quasi sempre quella soprattutto per un utente smartphone quindi se abbiamo scattato in questo modo e poi ci mandiamo via wifi la fotografia sul cellulare e la sbattiamo su Instagram la post produzione che possiamo fare su un file come questo su Instagram è superiore a quella che possiamo fare su una foto scattata col telefono perché un'immagine del genere ha una qualità maggiore una quantità di informazioni maggiore rispetto a quella che catturiamo col telefono infatti pesa quattro volte tanto. Ovviamente amici io vi assicuro ma vi assicuro veramente che la fotocamera è già stata rimpostata come la uso di solito ve lo garantisco non la lascio così nemmeno per 5 minuti l'ho già rimessa com'era per cui non vi disiscrivete se siete dei fotografi professionalisti semi pro degli amatori evoluti ma anzi iscrivetevi perché arriveranno dei contenuti in cui cercheremo di alzare un pochettino il livello quindi nel momento in cui cominciamo e vogliamo utilizzare la macchina in questo modo va bene ci può anche stare appena ci renderemo conto e succederà che la macchina da sola non riesce a fare proprio tutto quello che dovrebbe ecco che possiamo tornare a introdurre un minimo di controllo su quello che stiamo facendo e quindi nel corso di video successivi che non usciranno di seguito perché li sparpaglio andremo a vedere come possiamo riprendere un po' di controllo su quello che stiamo facendo. Se questo tipo di contenuti vi possono interessare io vi consiglio come sempre di iscrivervi al canale vi ricordo anche di andare sul mio canale a recuperarvi un po' di contenuti magari che potete esservi persi soprattutto per quelli che sono appena arrivati che arrivano qui per la prima volta o che si sono appena iscritti è pieno di contenuti dove vi faccio già vedere diverse cose come si fanno quindi andateveli sempre a recuperare magari molte delle domande che mi fate hanno già una risposta in un video lungo quindi vi invito sempre ad andarveli a spulciare prima di farmi domande dove magari ho già risposto molto approfonditamente. Detto questo è stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video.